Sono Cinzia Bottoli e mi occupo della parte amministrativa della società Bottoli SPA Industria Panificazione. La nostra azienda è stata fondata nel 1959 a Mantova, è un'azienda familiare a tutt'oggi e all'inizio era un'azienda specializzata nella produzione del pane, oggi invece è un'azienda il cui prodotto principale è la schiacciatina, un prodotto tipico mantovano. Il cambiamento che abbiamo seguito è stato necessario per poter soddisfare le esigenze di quelli che noi chiamiamo la snack generation, cioè tutte quelle persone che hanno bisogno di un sostituto del pane pratico e veloce. La schiacciatina nasce a Mantova alla fine del XIV secolo e veniva utilizzata nelle campagne, era un prodotto povero, era un complemento all'alimentazione base dei contadini. Ad oggi abbiamo voluto mantenere la tradizione di un prodotto semplice e di elevata qualità utilizzando ingredienti e processi produttivi che ne possano esaltare appunto le caratteristiche di fragranza e di semplicità del prodotto. Realizziamo i nostri prodotti anche a marchio Coop e garantiamo a questo importante cliente il rispetto della qualità totale della schiacciatina grazie ad attentissimi controlli su tutta la filiera, dall'entrata della materia prima fino alla realizzazione del prodotto finito. All'interno dei nostri stabilimenti altamente automatizzati realizziamo tutte le fasi produttive della schiacciatina e siamo particolarmente attenti alla lenta levitazione in modo da rispettare quella che è la tradizione produttiva di questo importante sostitutivo del pane. L'obiettivo primario della nostra azienda è quella di fornire al consumatore un prodotto sano, croccante, friabile e per questo che tutta la nostra attività produttiva è tesa a che al consumatore una volta aperto il pacchetto arrivi il profumo del pane appena sfornato.